Musica Ben il Partito Democratico nei grandi centri, in alcuni, in quelli più piccoli, si deve lavorare molto ancora. È il commento del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dopo la tornata elettorale delle amministrative in Abruzzo. Nella sua analisi, D'Alfonso enfatizza la disfatta sul Mona del Movimento 5 Stelle del centrodestra. Dunque, è un'elezione che ci dice che siamo andati bene nelle grandi realtà urbane. Invece c'è da correggere il tiro in qualche piccola realtà. Per esempio, noi abbiamo avuto un imperatore che si è insediato a Francavilla, frutto di un lavoro riuscito tra attività amministrativa e supporto sorridente del partito. C'è un lavoro significativo riuscito a Lanciano, con una figura storica del partito, presidente anche della provincia, che ha avuto un'importante margine di vantaggio che secondo me lo porterà alla vittoria. C'è il giovane men a Vasto, dove si è trovato uno squadrone, diciamo, della morte per loro che l'hanno concepita, fuori del perimetro del centrosinistra. Però siamo al ballottaggio e lui ha una grande qualità umana che secondo me lo porterà alla vittoria. Poi c'è il tema di Roseto, dove finalmente dopo anni lunghi di oblio si ricostituisce la presenza politica del PD e il giovane avvocato di Girolamo mi pare che sia stata una carta vincente scelta a livello locale. Poi c'è l'armageddon di Sulmona, un armageddon per il centrodestra e Cinque Stelle. Praticamente lì il campo del centrosinistra ha preso tutto, quasi una percentuale orientale, prima che arrivasse la democrazia. Ci sono delle piccole realtà dove noi dobbiamo riordinare l'iniziativa politica poiché dove si governa da vent'anni abbiamo dato luogo ad alternanza. E a livello nazionale il presidente D'Alfonso ammette che il PD deve rivedere qualcosa dentro il partito. Ma lì c'è da riseminare. Dobbiamo lavorare in maniera tale che non ci sia più una pervenza di collaborazione tra partito e istituzione, ma una è l'attività delle istituzioni e un'altra è quella del partito. Matteo Renzi che è un grande leader e sta facendo benissimo in questi 24 mesi, deve consentire una dualità anche di vita autonoma al partito nei territori a livello centrale. Io personalmente lo aiuterò molto a partire dalla vicenda referendaria di ottobre. Prima abbiamo parlato anche col sindaco per scatenarci a favore del SIA al referendum di ottobre. Segnali di timida ripresa del fatturato della produzione e dell'occupazione nel settore manifatturiero abruzzese. Questo dicono i dati dei primi tre mesi del 2016, elaborati dal Cresi e illustrati oggi all'Aquila nel corso della 14esima giornata dell'economia. L'occupazione aumenta, seppure di pochissimo, dello 0,1 ma in sei mesi arriverà allo 0,6 che equivale a mille posti di lavoro e cresce anche il fatturato, l'export e la produzione tra il 7 e il 9%. Ma ad analizzare i dati nel dettaglio si nota che ad alzare la media è soprattutto il settore metalmeccanico della provincia di Chieti, ovvero gli stabilimenti della seva e le sue potenti indotto, mentre in provincia di Teramo e quella dell'Aquila c'è ancora una sostanziale stagnazione e l'occupazione in prospettiva è destinata ancora a calare. È il manufatturiero in provincia di Chieti sicuramente, ma è anche il manufatturiero elettronico all'Aquila che va molto forte e poi il sistema dell'agroalimentare che comunque regge e va forte sia nell'export che nel fatturato tendenziale. Comunque il dato importante è che si prevede un aumento di fatturato di tipo tendenziale del 7,2%, un dato che proprio avevamo dimenticato e che finalmente incominciamo a poter vedere rosa per il futuro di questa regione. Spetta anche alla politica, aggiunge il presidente di Union Camera Lorenzo Santilli, fare la sua parte per aiutare le imprese ad agganciare e far tesoro di questi segnali di ripresa e di questo ritrovato clima di fiducia. Ma noi alla politica le imprese chiedono sempre le stesse cose, quindi non è che cambia, vogliamo innanzitutto meno burocrazia, tempi più veloci per intraprendere, una libertà di impresa maggiore e perché no una riduzione delle pressioni fiscali. Guardate, le imprese mi pare che stiano largamente avviando un percorso che è un welfare aziendale per cui credo che il problema se lo stiano ampiamente ponendo. Alcune imprese, alcuni imprenditori italiani stanno sostenendo, iniziano a sostenere un reddito minimo di cittadinanza per rilevare i consumi, quindi io credo che tutto questo è sul tappeto e all'ordine del giorno della discussione, ovviamente non è che sono problemi che si possono affrontare con grande semplicità. Un nuovo casello autostradale dell'A24 Roma-L'Aquila, più a ovest del capoluogo, all'altezza del comune di Lucoli. Chiusura, di conseguenza, del casello di L'Aquila-Ovest, troppo centrale con conseguenti problemi di traffico e ingorghi. Della proposta se ne è parlato oggi a Palazzo Silone, un incontro tra il presidente della regione Luciano D'Alfonso, l'amministratore delegato di strada dei parchi Cesare Ramadori, il sindaco di Lucoli Gianluca Marrocchi e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Valuteremo attentamente la fattibilità dell'intervento, si limita ad anticipare Ramadori alla vigilia della riunione operativa. Sì, siamo stati convocati dal presidente della regione per parlare di questa nuova possibilità perché l'intenzione, da quello che ho capito, del comune di L'Aquila è di chiudere lo svincolo dell'Aquila-Ovest perché è troppo al centro della città. Si tratta di vedere se la soluzione è Lucoli o un'altra soluzione che uscirà fuori oggi discutendo tecnicamente di questa soluzione. La società però è possibilista, vuole vedere bene? Vogliamo solo capire perché non possiamo mettere uno svincolo ogni 3 o 4 chilometri. È un'ottima scelta quella di provvedere ad indireggiare il casallo dell'Aquila-Ovest e questo consentirà di valorizzare la nostra valle e favorire il turismo. In pratica ci consentirà di recuperare per i 30 anni perduti di turismo da quando è stata fatta quella scelta sbagliata del casello di torri in parte. Questo non significa che il casello di torri in parte verrà chiuso, anzi sarà l'approccio diretto per arrivare nell'altipiano delle rocche e per poter fruire di campo felice.